Buongiorno, prima notazione di servizio oggi è domenica e buona domenica a tutti. Questa sera ci sarà alle 23.30 Matrix, quindi mi raccomando non vi dimenticate che ci sarà uno speciale, nonostante su tutti i giornali italiani questo non ci sia scritto, io spero che attraverso la zuppa e le vostre condivisioni si possa far sapere a più persone possibile che questa sera per le elezioni francesi ci sarà Matrix e quindi avremo in diretta tutti quanti i risultati, i primi commenti a caldo, vedrete che sarà molto interessante oggi le elezioni che oggi i giornali definiscono più importanti dell'ultimo periodo. Allora la cosa che mi ha colpito e che mi sta colpendo sui giornali francesi, italiani, inglesi che leggo quotidianamente è che il vero problema della Francia, secondo tutti quanti i giornali dell'Europa, non è l'Isis, non sono gli attentati terroristici, sono la signora Le Pen, il vero problema dell'Europa è la signora Le Pen, io questo lo capisco, forse il titolo che ne fa più conto è quello del Sole 24 ore di oggi che fa proprio un titolo di questo tenore, ve lo leggo in maniera letterale, Bruxelles col fiato sospeso, sperando in Macron, quindi racconta esattamente quello che è il timore di tutta l'Europa. Allora, volete veramente pensare che qua tutto il problema dell'Europa e delle elezioni sia la signora Le Pen? Io penso che il problema sia il motivo per il quale la signora Le Pen è diventata probabilmente la candidata più forte che ci sia in Francia, o una delle più forti, perché la Francia ha adottato quello che oggi noi stiamo leggendo sulla stampa, cioè sta adottando un modello, ha adottato negli ultimi anni un modello diciamo sociale e di convivenza sociale che non ha retto la forza della realtà, e cioè che non si sono integrati, non c'è stata un'integrazione di seconda generazione e di terza generazione e che sta diventando un disastro. Oggi sulla stampa, poi ne parleremo, si racconta della connivenza tra le ONG e gli schiafisti nel fare arrivare gli immigrati in Italia, ma il grande cappello dietro al quale questo è possibile è il fatto che non ci rendiamo conto che l'Italia non può accettare tutto questo numero di immigrati senza poterli integrare ovviamente, creando oggi le condizioni perché domani si diventi come la Francia. Ma andiamo avanti con la Francia, i candidati sono 4, sostanzialmente sono 11 nella realtà e di questi 4 candidati i 4 probabili sono che possono andare al ballottaggio perché sono tutti nel 2-3% e sono Macron, che è l'uomo che ha iniziato la sua carriera politica sostanzialmente tre anni fa, ex uomo di Rothschild, poi con un rapporto importante con la politica francese di sinistra, è oggi candidato come la grande novità, quello che piace ai giornali, quello che piace alle establishment, quello che piace alle persone per bene, quello che piace a tutti gli italiani, quello che piace a Giuliano Ferrara, quello che piace alla gente fighetta. Macron che peraltro sembra essere in vantaggio rispetto agli altri. Poi c'è Fillon che è il candidato della destra liberale, però una destra liberale che in Francia è molto arrabbiata sull'immigrazione, quindi è un tono duro, molto più duro di quello che possiamo dire abbia Berlusconi oggi in Italia. Poi c'è la Le Pen di cui sapete ormai tutto quanto, la Le Pen come dice giustamente Cazzullo oggi nel Corriere della Sera, i ritratti ci sono su tutti i giornali, dice in realtà ha perso però quell'area liberale, liberista che aveva il padre, che era un tacceriano, cioè il padre che veniva considerato un nazifascista, in realtà era molto più liberale della signora Marie Le Pen che di fatto è molto più successo oggi nel popolo, nell'idea populista, nell'idea diffusa per cui il taccerismo certo non ha molto grande e non ha grande presa. Il quarto candidato che è sempre lì vicino è questo Mélenchon, uomo della sinistra più estrema, che però i cui opposti si legano, come tutti quanti dicono, ha alcuni punti in comune per esempio sull'economia proprio con la signora e contro la globalizzazione contro la signora Le Pen. Fantastica questa specie di picche che abbiamo ancora noi, cioè mentre il dato fondamentale è che la destra tra Fillon e la Le Pen sono decisamente la maggioranza e soprattutto la sinistra del presidente Hollande è praticamente scomparsa, il suo candidato a meno del 10% sicuramente, insomma quando tu vedi le foto sul Corriere della Sera di che cosa pensano i francesi, vedi un tavolino a un bar francese con 5 persone che votano queste 5 persone, 2 Macron perché il pezzo è fatto sui loro voti, 2 Hamon che è il candidato dei socialisti e 1 Mélenchon. Questo è il ritratto che i giornali danno della realtà, se questo è il ritratto che i giornali danno della realtà, Bruxelles che non vuole la Le Pen, che vuole Macron, tutti che adorano questo favoloso Macron, i tavolini del bar che vogliono, il socialista che non prenderà un voto, insomma c'è da pensare che questa sera i sondaggi potrebbero essere contraddetti insomma come purtroppo per i sondaggisti è avvenuto nell'ultimo periodo. Noi questa sera un sondaggista ce l'avremo in studio per capire quanto e come e se verranno contraddetti anche questa sera, perché se non dovessero essere contraddetti il ballottaggio secondo i sondaggisti più probabile è quello tra Macron, il banchiere di Rothschild e la Le Pen. Bello l'intervista fatta dal giornale Alain de Benoit che è un intellettuale di razza che ci racconta qual è la situazione in Francia e come è il senso della destra oggi in Francia, ma il vero punto di vista che mi sembra di notare oggi sui giornali, ieri sui giornali è proprio quello di Liberation, quel titolo di Liberation in cui fa vedere Le Pen e Fion e dice tutti tranne quei due. I giornali si sono sdraiati su questa idea e tutti stanno... Sì hai ragione Francesco, è un po' sgollista, dai su. Fion, chi è Liberale? Macron è Liberale? Liberale Macron? Giubilei, ti voglio bene, però insomma siamo sempre sempre noi quattro liberali che ci mettiamo a mettere i puntini su lei. Ma comunque sia, sarà molto divertente vedere questa sera come funziona e come soprattutto, la cosa che vi dico francamente che più mi divertirebbe a me è che i sondaggi venissero smentiti per l'ennesima volta dopo Trump e dopo Brexit, per l'ennesima volta venissero smentiti. Quello che è certo è che tirano giornali intellettuali, persone per bene, no, su Addison per bene, tirano tutte dalla stessa parte che si chiama Macron, tutti col banchiere di Rothschild. Io dico come cavolo questi non si rendono conto, magari vincerà pure, ma non si rendono conto che è proprio questo il motivo per il quale italiani, francesi, tedeschi stanno alimentando sempre di più i movimenti populisti, perché è proprio questo il simbolo in tre anni di quello che oggi non piace. Vabbè, andiamo avanti. Quello che piace alla gente e invece stupendo è il professore. Oggi sul Corriere della Sera, un bel colpo al Corriere della Sera, è il professore che dava voti troppo bassi in un liceo della Puglia, il preside lo redarguisce perché dice dai voti troppo bassi, lo sanziona e poi dopo alcuni anni viene invece rimesso, tolta la sua sanzione perché diceva non faceva altro che dare i voti giusti, non dava i voti troppo bassi. Questo è il senso del fallimento della scuola. Nella scuola tutti il sei politico, tutti quanti possono passare e se un professore è rigido ed è troppo severo, scuola, professori, studenti, studenti ci sta, tutti quanti contro di lui e ovviamente nella nostra grande mostro burocratico c'è qualcuno che gli può dare una sanzione. Travaglio in suo fondo è contro Cassese che ieri sul Corriere della Sera parlava delle fake news e sulla necessità di sentenze esemplari, lo prende in giro Travaglio a Cassese e dice ma come tu garantista che vuoi le sentenze esemplari sulle fake news? Pensa ai giornali e tutte le minchiate che hanno scritto. Ultimo appello per Alitalia, lo fa Gentiloni ma l'hanno fatto anche tutti i sindacati, se non dovesse passare il pre-referendum sul pre-accordo sui tagli ulteriori all'Alitalia, l'Alitalia salta. Se i dipendenti all'Italia questa volta non accettano questo referendum non avranno più nessuna via d'uscita, questo dice Gentiloni, questo dicono i sindicati e questo mi auguro anch'io. Io spero che il referendum è un passi e che si possa avere un'Alitalia ulteriormente, diciamo, un ultimo tentativo ancora per l'Alitalia, l'ultimissimo dell'ultimissimo tentativo dell'Italia, ma se questo non dovesse avvenire, se i dipendenti all'Italia non accettano questo ulteriore sacrificio, mi rendo conto per loro, posto che il problema è quello dei dirigenti, chiusa, basta, andiamo con Ryanair e Lufthansa, basta perché non si può pensare che ogni 3-4 anni ci proponiamo un problema quando tutti noi un problema ce lo poniamo. Sul debito Padoan fa il fenomeno, poi uno dice che i populisti sono gli altri, mentre Padoan e gli altri sono dei personaggini che fanno parte di un establishment. Viene declassato il debito italiano da Fitch, sapete cosa dice Padoan? Non accetto giudizi da Fitch. Allora, tra il populismo e l'elitismo ci sarà una via di mezzo, ma come fa un ministro a dire non accetto i giudizi di Fitch? E se ti dato questo giudizio te lo prendi, non accetto il 5, è come gli studenti che non accettavano il professore che dava loro brutti voti, dice no non l'accetto, non l'accetto questo voto e sanzioniamo quel professore. Quindi Padoan come gli studenti del professore pugliese che viene sanzionato perché dava loro brutti voti. Ultima notizia, ve l'ho già detta, stupenda, riguarda la stampa che continua su questa sua battaglia, è molto interessante, noi di Matrix l'abbiamo fatta vedere tante volte, cioè contatti diretti tra alcune ONG e i criminali libici. Questo scrive la stampa, non il giornale, non Libero, non i giornali del centro-destra, la stampa dice che ci sono questi contatti. In due pagine, pagina 2 e 3, ve ne parla. Loro hanno sentito il procuratore di Catania, che abbiamo sentito anche noi e che parla di questa vicenda, quello che io dico è non soltanto è criminale andare a salvare delle persone nelle acque territoriale libiche perché non si fa altro che incentivare il traffico di uomini, ma qua si fa un passo ulteriore che neanche usavamo pensare e cioè che tra le ONG e quei criminali che fanno gli scafisti c'è un accordo. Stasera Daniela e tanti altri che ci seguono, Matrix non sarà in prima serata, ma non importa, fino alle 11 e mezza resistete, ci saranno i sondaggi, se saranno too close to call, ovviamente dal punto di vista televisivo io me lo auguro perché così saremo accesi tutta la notte, se così non fosse vedrete che avremo un sacco di valutazioni interessanti. Avremo in studio Marcello Veneziani, avremo Barbara Ponte Corvo, avremo Massimo Giannini, avremo un sacco di persone che ci daranno, Alessandro Salusti, qualche idea su quello che potrà succedere in Francia. Un saluto, buona domenica a tutti quanti voi, da Firenze sto tornando a Roma perché questa sera ci dobbiamo preparare alla grande per vedere le elezioni che condizioneranno l'Europa, come dicono i giornali preoccupatissimi della vittoria della Le Pen e favorevolissimi alla vittoria di Macron. Beati d'oro, ciao!